L'importante iniziativa condotta per restituire la fruibilità, credo uno dei punti più suggestivi di tutta la nostra regione e anche più attrattivi. È giusto che all'interno di Porto Novo si possa fruire di questo bene straordinario. Nell'interesse della comunità, nell'interesse della nostra economia, ma anche della fruibilità del nostro patrimonio culturale, credo sia importante che tutti gli enti in filiera riescano sempre a convergere verso non solo la sinergia ma anche il raggiungimento degli obiettivi. È bello quando c'è disponibilità ma c'è anche il giusto clima, il giusto ambiente, la giusta collaborazione che non sempre è scontata ma devo dire che in questo momento è l'arma vincente della nostra regione che riesce ad essere oggettivamente una comunità forte e attrattiva in questo senso. Grazie.